Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, la situazione per lunedì vede un super anticiclone sul nord Europa questa volta tra isole britanniche, Germania, paesi bassi, Scandinavia e l'aria fredda che entrerà al nord Italia ma in giornata man mano guadagna la strada anche al centro sud specie sull'alto Adriatico. Giornate di variabilità di piovaschi concentrati in questa volta soprattutto proprio sulle regioni meridionali e la Sicilia. Andiamo a vedere nel dettaglio la previsione, molta variabilità al mattino praticamente ovunque e poi sull'alto Tirreno e al norte delle schiarite in avanzamento da est al nord est. L'aria fredda, i venti che saranno sostenuti di tramontana e grecale su tutto il centro nord ma entro martedì quest'aria fredda si farà sentire anche all'estremo sud. Possiamo osservare la prossima mappa che ci fa vedere appunto una giornata tutto sommato discreta sul medio alto versante tirrenico, la Liguria, poi anche le regioni seppentrionali in un contesto al mattino ancora un po' di variabilità ma il clima freddo sulle città del norte non andiamo oltre 10 gradi e poi di notte locali gelati. Invece sul basso Adriatico, il sud ancora nubi minacciose, occasionali piovaschi e fiocchi di neve sull'appennino a quote medio-basse. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.